Eccoci qui, benvenuti alla dodicesima, sì, siamo alla dodicesima rubrica settimanale dedicata alla privacy e alla protezione dei dati personali. Perdonatemi se oggi il contesto è un pochino meno tecnico e performante del solito, infatti come vedete un po' alle mie spalle mi trovo in una camera di albergo perché sono a Figline e Incisa Valdarno, sono precisamente al comune di Figline Valdarno dove è stato organizzato il Think Festival, il Festival della Cultura Digitale. Mi trovo qui perché ho presentato per la prima volta pubblicamente, davanti a persone fisiche vere, quindi non tramite video, webinar, YouTube e quant'altro, gladiatori digitali che come tutti voi saprete è la mia community proprio dedicata alle sfide dell'innovazione. Vi faccio vedere brevemente l'home page di questa stupenda iniziativa che c'è stata qui a Figline. Io fra l'altro non la conoscevo, sono stata invitata da alcuni contatti che avevo in comune, ho partecipato e il mio progetto è stato accettato, quindi sono venuta qui all'edizione di quest'anno a presentare gladiatori digitali. Questo è il programma di quest'anno, 2024, ricco, pieno zeppo di temi innovativi, realizziamo una mano robotica, intelligenza artificiale con pictoblocks, passeggiata letteral digitale, chi ci sarà domani mattina se non è a ore 10, tanti professionisti, tante notizie innovative. Il tema, lo avrete capito, è l'innovazione. L'innovazione è quindi tutto quello che gira attorno. Fra l'altro il motto di questa bellissima e stupenda iniziativa è è tutto nella tua testa, che è un po' una frase provocatoria che sta proprio a significare che l'intelligenza artificiale non sostituisce l'essere umano, ma potenzia la mente dell'essere umano, perché deve comunque provenire tutto dalla testa di noi uomini, e poi l'intelligenza artificiale potenzia le nostre capacità, la nostra creatività, il nostro intelletto e via dicendo. Ma non volevo rinunciare alla nostra rubrica del sabato, quindi spero che si veda e si senta bene. Io vi invito sempre in ogni caso a fare appello ai canali soliti che trovate all'interno della community di Omnivis. Nella forum trovate il link al video su YouTube, avete modo anche di fare dei commenti, fare delle domande e quant'altro. Trovate fra le altre cose anche il link alla bacheca Fidley, che è la bacheca che io utilizzo, questa qui, ve la faccio vedere, dove vado a mettere tutte le notizie. Allora, partiamo veloci, perché non vorrei arrivarsi a qualche imprevisto, visto che sono in questa situazione un pochino così precaria, ma ho fatto un po' di scouting di notizie, adesso così a latere un po' dell'evento, e devo dire che è stata una settimana molto interessante. Ci sono due o tre chicche che adesso condivido con voi e poi vi lascio sempre i pdf dei documenti con tutte le analisi nel forum, però intanto ne parliamo. Allora, partiamo come al solito dall'Italia e partiamo dalla privacy. Voi sapete che noi solitamente analizziamo qualcosina che riguarda proprio quello che è successo in Italia e poi spaziamo in Europa o anche nell'internazionale se ci sono notizie rilevanti. Allora, riconoscimento facciale a Roma. Il garante apre un'istruttoria, inviata una richiesta di informazioni a Roma Capitale su un progetto di videosorveglianza nelle stazioni metro. Allora, qualche giorno fa è uscita una notizia. La notizia è questa. Giubileo 2025, grandi promesse di telecamere con riconoscimento facciale. Ovviamente per una questione che riguarda la protezione delle persone, la sicurezza dell'evento. Voi sapete che il giubileo è un evento mondiale importantissimo e quindi sicuramente i problemi legati alla sicurezza delle persone sono importanti. Quindi il Comune di Roma si sta già adoperando per implementare delle misure di sicurezza adeguate al tipo di rischio a cui si andrà incontro. Bene, qualche settimana fa uscivano un po' online queste notizie, telecamere con riconoscimento facciale, sicurezza nelle metro, telecamere intelligenti. Quindi la vera novità per il giubileo riguarda le telecamere. Ne ha parlato l'assessore alla mobilità di Roma, Eugenio Patanè, nel corso di un'edizione congiunta delle commissioni mobilità e giubileo 2025. Grazie all'implementazione del 5G permetterà uno scambio di dati più veloce rispetto al passato. Le stazioni delle metro si doteranno di telecamere collegate con le forze dell'ordine. Una volta riconosciuto un soggetto, cominceranno a seguirlo, guardate bene che notizie anche pericolose, dall'alto, monitorando le azioni. Ovviamente il garante è stato un po' richiamato dalla portata di queste notizie e infatti è stata aperta proprio un'istruttoria. Vediamo di collegarci, se la rete internet me lo consente, quindi perdonate anche un pochino questa latenza, ecco qua. Istruttoria, qui c'è brevemente la notizia, fra l'altro di qualche giorno fa, l'amministrazione ha 15 giorni per rispondere alle richieste di informazioni del garante privacy, fornendo, guardate un po' quanta roba gli chiedono, una descrizione tecnica delle funzionalità del riconoscimento facciale, le finalità e la base giuridica di trattamento, di dati biometrici, perché di questo si sta parlando, e una copia della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati. Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, meglio nota anche come DPA, ne abbiamo parlato tanto sul canale, che altro non è, se non proprio una valutazione sui rischi legati al trattamento che dovrebbero essere il più possibile minimizzati. Valutazione propedeutica al trattamento, obbligatoria fra l'altro, perché rientra fra quei casi di obbligatorietà e di monitoraggio regolare e sistematico per i quali una DPA, ahimè, ci vuole, è obbligatoria. Quindi chiedono una copia di tutta questa documentazione. 15 giorni per rispondere. Quindi vediamo un po', seguiremo le dinamiche di questa vicenda e vedremo che cosa succederà nei prossimi giorni. Vi ho voluto riportare questa notizia, perché comunque è sempre molto interessante seguire anche questi aspetti che riguardano la nostra capitale. Andiamo avanti, andiamo avanti e c'era un'altra notizia, eccola qui. Vi ricordate qualche settimana fa il gigantesco attacco cyber ai sistemi informatici della Synlab? Ebbene, per due settimane, venti giorni, non si è saputo più nulla, perché chiaramente, vi ricordate, era uscito il comunicato stampa sul sito della Synlab Italia, colpiti ai sistemi informatici del network nazionale impegnato nella diagnostica medica che si è dovuta confrontare con le interruzioni di alcuni suoi servizi. Quindi, praticamente, è ancora, adesso no, ma in quel momento bloccarono tutto, prelievi, visite, ritiro le ferti, quindi un disservizio, ahimè, forzato, ma importante. Il gruppo sanitario ci aveva comunicato che avrebbe informato opportunamente tutti i soggetti interessati in conformità alla legge. Bene, pare che, in una nota, la Synlab Italia conferma l'impatto sui dati in seguito al cyberattacco del 18 aprile, che è stato rivendicato dal ransomware Black Basta, che è, diciamo, con tutta probabilità, con buona probabilità, l'artefice del ransomware mandato ai sistemi della Synlab Italia, che ha causato l'esfiltrazione di parecchi dati. Infatti, da qualche parte, addirittura, dicono proprio che sono stati rubati e sfiltrati, guardate un po', 1,5 terabyte di dati, tantissimi, tantissimi dati personali, sanitari, sensibili, e via dicendo. Quindi, l'attacco è molto, molto importante. Citano, fra l'altro, una fonte importantissima, adesso la andiamo a guardare, che è la ramsonfeed.it, che è un sito veramente che vi consiglio proprio di tenere nella barretta dei preferiti, perché è uno di quei siti che studia gli attacchi ransomware nel mondo, li monitor e poi fai dei report. Adesso vedremo quello dedicato proprio alla Synlab. Quindi, a quanto pare, che cosa è successo? Questi 1,5 terabyte di dati sono stati sfiltrati e sono stati collocati all'interno di una sorta di scatola nera e quindi non si sa che fine faranno. Anzi, gli artefici di questo, come dire, di queste sfiltrazioni, di questo attacco hacker hanno previsto come data di pubblicazione dei contenuti, quindi la pubblicazione e la diffusione integrale nel dark web di questi dati proprio oggi, l'11 maggio. Quindi io magari stasera monitorerò un po' la vicenda e se dovesse uscire qualcosa di interessante la riporterò sui canali e farò dei video commenti dedicate, perché questa è una di quelle notizie ahimè abbastanza tristi. Quindi, ecco, se vi capiterà stasera di fare un giro in rete, cercate anche voi qualcosa su questa notizia e vedremo quali saranno i risvolti. Ancora, rimaniamo un attimo nel campo attacchi, anzi no, vi volevo far rivedere una cosa importante a proposito della sillaba Italia, torniamo un attimo indietro, vi dicevo che hanno citano questo sito eccolo qua ramsomfeed.it vi voglio fare vedere in diretta questo sito pazzesco eccolo qua questo sito che cosa fa? Vedete qui questa tabellina? Qui nel menu di fianco c'è scritto dashboard, notizie, report, gruppi, paesi, mesi, Italia, eccetera, eccetera. In praticamente diretta, in maniera globale, monitora i gruppi ransomware e memorizza le rivendicazioni in un feed permanente. Quindi sono come dire, un po' come il giornale del ransomware, no? Vi potete cliccare sulla notizia e andare a leggere tutta una serie di attacchi che sono proprio monitorati. Vedete un po'? 24 maggio, 10 scusate, maggio 2024, quindi parliamo veramente di ieri. ma la cosa interessante se voi andate qui recap mensili, per esempio questo qua di aprile contiene, ed è questa la cosa interessante, tutto lo studio dell'attacco che è stato rivolto alla syllab. C'è proprio tutta la descrizione. Eccolo qui, vedete? In evidenza. Quindi questa fonte è importantissima perché ci sono poi articoli di giornale, riporta le notizie, c'è una spiegazione un po' di quello che è successo, alcune informazioni incrociate anche con le dichiarazioni fatte dagli hacker. Quindi in questo modo potete avere un po' una panoramica più completa della notizia. Quindi ramsonfeed.it ve lo segnalo. Poi dicevamo un'altra cosa interessante rimanendo in campo truffe, come evitare il one giri, la truffa dello squillo senza risposta. diffusissima ultimamente, è uscita sull'articolo di notizia, è uscita sul sito cybertrend.it che come sapete io consulto perché raccoglie notizie un po' di questo tipo lato cybercriminali. Il one giri è una truffa telefonica tradotto dal giapponese vuol dire uno squillo e butto giù perché la modalità e il modo superandi dei criminali è proprio questo. Squillano quindi mandano una telefonata fanno una telefonata sulla vittima malcapitata e poi chiudono immediatamente. Lo fanno ovviamente in orari abbastanza come dire antipatici perché in piena notte in modo tale che uno la mattina si sveglia vede il numero di telefono non sa chi è e richiama ed è lì appunto fanno proprio su quella leva di ingegneria sociale per rubare e carpire dei dati. Quindi la vittima riceve una breve chiamata senza risposta da un numero estero sul proprio telefono se decide di richiamare e ahimè statisticamente sono in tanti quelli che chiamano viene indirizzata a un numero a pagamento capace di addebitare anche una somma da 1-2 euro in pochi secondi ovviamente dipende da quanto sto attaccato al telefono. Qui l'articolo è molto interessante perché ci dice quali sono i numeri diciamo da evitare quelli che sono stati già riconosciuti e segnalati più 3-7-3 più 3-8-3 più 216 più 53 più 44 quindi l'obiettivo è che la vittima non faccia in tempo rispondere infatti la chiamata viene fatta solitamente di notte e poi decide di richiamare il numero per curiosità per paura perché magari ha dei figli all'estero i motivi possono essere tanti quindi attenzione a questa truffa nuova che si chiama proprio one giri la truffa dello squillo senza risposta. Ora spostiamoci spostiamoci in ambito intelligenza artificiale perché c'è una notizia bomba nasce Medgemini che è l'intelligenza artificiale di Google per la sanità la quale promette meraviglie questo articolo che vi riporto di agendadigitale.eu è molto interessante perché se avrete tempo di leggervelo tutto c'è proprio tutto uno studio commento per commento effettuato da un radiologo che ha sottoposto a Medgemini una serie di lastre e qui se andiamo in fondo eccole qua vi faccio vedere proprio l'esperimento e ci riportano guardate qui input per output tutta la conversazione con Medgemini promette grandi cose perché praticamente che cosa hanno fatto? Hanno preso Gemini che è l'intelligenza artificiale di Google e l'hanno dicono proprio nell'articolo l'hanno fatta laureare cioè si è laureata in medicina quindi l'hanno addestrata con delle fonti ovviamente che riguardano l'ambito medico sanitario e via dicendo hanno addestrato il modello base che è un modello super potenziato perché raggiunge delle prestazioni SOTA che è l'acronimo per dire state of the art che proprio fa riferimento alla tipologia di prestazioni all'avanguardia e addirittura si dice maggiore di chat CPT4 quindi assolutamente sarebbe da provare è interessante perché in questo articolo vi riportano proprio il risultato quindi il medico alla fine fa una sorta di commento eccolo qua i pro e i contro i pro sono tanti ci sono anche dei contro per esempio nell'immagine sono presenti piccoli osteofiti osteofati spero di pronunciarlo bene osteofiti ma lungo i margini laterali piuttosto che margini anteriori dei corpi vertebrali quindi qua l'intelligenza artificiale ha fatto un errore ma io aggiungo meno male perché vuol dire che di fatto ancora non c'è stata una sostituzione integrale della mente umana quindi è importante utilizzare questi strumenti come sempre per aiuto e come appoggio e come potenziamento alla mente umana e non come sostituzione leggetevi quest'articolo perché è molto interessante e in campo sanitario l'intelligenza artificiale sarà tantissimo di aiuto soprattutto nelle diagnosi perché sarà in grado di aiutare i medici che ormai sono diciamo costretti fra virgolette ad apprendere tantissime informazioni e a sviluppare una metodologia di pensiero convergente multistrato multimodale ecco li possono aiutare in queste fasi che prevede appunto la diagnosi per aiutarli proprio a fare delle diagnosi sempre più perfette quindi questa è una bellissima notizia che proviene proprio da Google sempre in ambito intelligenza artificiale vi segnalo che è nato l'ufficio dell'intelligenza artificiale vediamo se vi ho riportato la notizia eccola qui un importante passo in avanti nell'applicazione dell'AI Act il regolamento sull'intelligenza artificiale che è stato pubblicato il 13 marzo e che a breve dovrebbe arrivare in gazzetta ufficiale dell'Unione Europea e finalmente essere dotato anche di un numero che lo andrà a definire per sempre quindi ci siamo siamo quasi per avere il testo definitivo c'è stato già il corrigendum lo hanno già ritoccato nasce l'AI Office quindi l'ufficio che si occuperà di gestire proprio tutte quelle questioni riguardanti l'intelligenza artificiale in realtà l'AI Office non è stato istituito oggi ma neanche ieri perché diciamo che sulla base di una decisione della Commissione Europea del 21 febbraio 2024 era stata prevista l'istituzione di questo ufficio e in questi giorni lo stanno però implementando e quindi questo ufficio quali saranno i suoi compiti supporto nell'attuazione dell'AI Act rafforzamento e sviluppo di una intelligenza artificiale l'affidabile cooperazione internazionale importantissima per lo sviluppo di questi sistemi e ovviamente immancabile collaborazione con le istituzioni esperti e stakeholder quindi anche questa notizia mi sembrava molto interessante da riportarvi concludiamo e rimaniamo sul campo intelligenza artificiale con questa notizia che più che una notizia è una guida perché molto spesso sul canale dei gladiatori digitali su YouTube ma anche in community mi chiedete come mai a volte per fare brainstorming o analisi documentale utilizzo Cloud3 che è il modello di intelligenza artificiale di Antropic al posto di ChatGPT che è invece quello di OpenAI beh i motivi sono tantissimi ne ho parlato in tanti video legati da un lato anche alla sicurezza dei dati e al trattamento degli stessi perché ad oggi ChatGPT ci consente tramite delle diciamo dei trucchetti di settaggio di impostare la piattaforma in maniera tale che i dati trattati siano minimizzati al massimo adesso sto semplificando però per farvi capire Cloud3 attualmente non è fra l'altro ancora fruibile dall'Italia perché è stato riservato soltanto ad alcuni stati si può chiaramente bypassare questo limite banalmente con una VPN molti mi hanno chiesto come fare per collegarsi tramite VPN sto preparando un video sul canale YouTube di gladiatori digitali mio personale dove vi spiegherò come attivare questa VPN in maniera semplice in quattro passi così potete anche voi provare Cloud3 perché fra le tante cose di Cloud3 una delle differenze più importanti è proprio la resa in termini di output cioè Cloud ci dà proprio la sensazione di parlare con un essere umano ha un'emotività veramente potenziata è empatico e quindi veramente la percezione è quella di parlare con un amico provare per credere se dovessi dirvi io personalmente quale preferisco chat CPT o Cloud3 ma probabilmente dipende probabilmente chat CPT perché io faccio molto brainstorming quindi lo utilizzo per quello però devo dire che quando ho commentato il disegno di legge sull'intelligenza artificiale con Cloud sono rimasta colpita perché ha dato per esempio una definizione di sistema antropocentrico che è veramente era da pelle d'oca l'ho commentato nel video abbiamo visto tanto quindi non saprei dire forse come spesso accade la verità sta nel mezzo quindi andrebbero utilizzati un po' entrambi magari il connubio perfetto sarebbe utilizzare chat CPT 3.5 la versione gratuita per il brainstorming che è più che sufficiente poi rifinire l'output in termini di risultato spostandosi su Cloud3 provare provare anzi provate poi magari fateci sapere come vi siete trovati come avete percepito anche la questione della privacy nell'utilizzo di queste intelligenze artificiali se avete dei dubbi o altro e vi risponderò certamente leggendo sul forum bene perdonate la velocità ma oggi volevo veramente dare una panoramica di tutte le notizie in maniera super rapida perché mi sarebbe dispiaciuto lasciarvi senza l'appuntamento settimanale sappiate che come sempre mi trovate in community gladiatori digitali vi basta digitare su google gladiatori digitali il primo risultato è lì che dovete cliccare vi iscrivete mi trovate lì se volete vedere ah una piccola informazione se volete vedere il video della presentazione di gladiatori digitali al film festival di figline pubblicherò su youtube sul mio canale avvocato Giovanna Panucci l'integrale diretta dura più o meno una mezz'oretta quindi se avete così piacere di vedere che cosa c'è dentro la community quella è un'ottima occasione perché ho parlato di tante cose ho lasciato anche delle risorse gratuite e quindi vi rimando al canale per ogni approfondimento per il resto community omnivis forum della community risorse le trovate lì e mi raccomando seguite tutto nel dettaglio perché ci sono cose molto interessanti fra le fonti mi stavo dimenticando ecco a proposito di fretta c'è una cosa molto interessante che volevo dirvi ve la commento così al volo proprio perché è una notizia trasversale che riguarda la privacy che è questa vediamo se la trovo al volo Vaticano mi stavo quasi dimenticando entra in vigore il primo regolamento sulla protezione dei dati personali allora il Vaticano pubblica il suo GDPR personale il suo regolamento sulla protezione dei dati entrato in vigore la notizia riporta tutta una serie di considerazioni è veramente importante io sono andata a recuperare il testo se lo trovo ve lo faccio vedere eccolo qua del decreto della pontificia commissione per lo stato della città del Vaticano con il quale viene promulgato il regolamento generale sulla protezione dei dati voi vi chiederete ma perché non l'avevano ancora fatto non l'avevano ancora fatto ma a parte queste osservazioni di contesto entra in vigore il 30 aprile 2024 ci sono delle differenze rispetto al regolamento europeo veramente tanto interessanti ve le ho sottolineate qui alcune cose sono un po' ripetitive per esempio nella parte dell'oggetto dell'ambito di applicazione ci dice il regolamento non si applica ai dati personali domestici trattati per finalità diciamo uso domestico dati personali pubblici e dati anonimi è abbastanza tautologica come cosa ma le cose interessanti però sono soprattutto con riferimento al ruolo del DPO il quale responsabile della protezione dei dati ecco di DPO ce ne sarà uno le funzioni di DPO sono sempre attribuite al consigliere generale dello stato della città del Vaticano quindi lui sarà il DPO agisce in piena indipendenza ed è guardate qui competente a ricevere il reclamo questa è un'importante differenza rispetto al regolamento europeo quindi il DPO del Vaticano potrà gestire i reclami ricevere integralmente i reclami ancora più interessante sempre con riferimento alla figura del DPO è quella della la possibilità di utilizzare delle guardie vediamo se lo trovo al volo per non farvi perdere troppo tempo ma poi tanto vi lascio il documento eccolo qua guardate un po' nello svolgimento della sua attività il DPO può avvalersi dell'ausilio del corpo della gendarmeria vaticana ora ditemi quale DPO in Italia non vorrebbe usufruire di una sorta di guardia del corpo personale da mandare all'uopo dove occorre questa è una gran bella cosa altra novità sul titolare del trattamento oltre alla figura dei responsabili c'è quella dei referenti quindi il titolare si dota di un'organizzazione assegnando responsabilità tale organizzazione è composta dai responsabili dai referenti del trattamento un ruolo diverso che non siamo abituati a leggere nel GDPR che qui è stato introdotto molto interessante oltretutto un regolamento molto snello 20 pagine pochi articoli ve lo metto nelle fonti della Omnivis della community e quindi dal di là potete andare a leggervi tutto bene questa volta ho concluso veramente vi ringrazio per questo super veloce collegamento per qualsiasi dubbio vi rimando ai canali e noi ci rivediamo il prossimo sabato con la rubrica privacy numero 13 buon fine settimana a tutti e noi ci rivediamo e noi ci rivediamo un po' e noi ci rivediamo un po'